Sorpresi con la droga al parcheggio Pietri di Arezzo, poi un inseguimento e alla fine due gli arresti a una persona denunciata grazie all'operazione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo. In manette è finito un 21enne albanese, un italiano di 63 anni per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un albanese di 35 anni è stato invece denunciato a piede libero. I tre sono stati avvistati durante un pattugliamento del territorio. I carabinieri hanno notato proprio al parcheggio Pietri due uomini a piedi che si stavano avvicinando ad un'auto parcheggiata. Alla vista dei carabinieri sia l'auto che i due a piedi si sono allontanati in direzioni opposte. È dunque scattato un breve inseguimento ma sia il conducente dell'auto che le due persone sono stati bloccati e identificati. I tre sono stati perquisiti, poi sono state controllate sia l'auto che le rispettive abitazioni. In tutto sono 700 i grammi di marijuana ritrovati e sequestrati già pronti per la vendita. Oltre a materiale per il confezionamento della droga è circa 15.000 euro in contanti, denaro sequestrato perché chiaro provento di spaccio.